In occasione della giornata mondiale della poesia, aderendo all'iniziativa di Carta Carbone, vorrei regalarvi questo testo di umiltà che potete trovare sul mio blog insieme ad altre mie poesie. Si chiama Ricetta per i presenti e per gli assenti. Mi rivolgo ai presenti, siano artisti o poeti, uno l'altro che ascoltatori. Se mai un giorno aveste la pretesa di stare accanto ai grandi, prima di comporre o scrivere, dedicarvi alla danza, al canto o qualche altra disciplina, suggerisco di visitare il cimitero. Io da parte mia sono stato a pochi metri, ma pochi davvero, da Jacopone da Todi, da Salvatore Toma, da Ugo Foscolo, da Percy Bess Shelley, da David Maria Turoldo, da William Butler Hitz, da Alda Merini, da Dante, da Gregorio Corso, da Gabriele D'Annunzio, da Salvatore Quasimodo, da Giuseppe Ungaretti, da Charles Baudelaire, da Apollinaire, da Filippo Tommaso Marinetti. Mi pareva peraltro scortese, fossero sempre e solo loro, a venire a trovare me.